In questo video vedremo come utilizzare alcuni siti internet per le cosiddette LIM virtuali. Per LIM virtuali si intendono quei siti internet nei quali noi possiamo operare come se fossimo davanti a un software autore della LIM, con la differenza che non stiamo operando su un software autore, quindi su un programma installato in una macchina, ma in un sito che è raggiungibile semplicemente mediante browser. Detto in due parole, i computer con l'insera LIM hanno per lo più un software autore installato. I più noti sono Promethean, Active Inspire o Smart Notebook o Sancore per quanto riguarda gli open source o altri ancora. Questi richiedono di essere installati nelle macchine, offrono molte caratteristiche avanzate, tuttavia risiedono fisicamente nella macchina. I servizi che ora vedremo invece sono cosiddetti web based, cioè basati sul web. Non richiedono alcun tipo di installazione, semplicemente un browser e naturalmente una connessione a internet. Vediamo il primo. Questo sito è raggiungibile all'indirizzo http, due punti, doppio slash, awwapp.com, ripeto, awwapp.com. Una volta raggiunto questo sito, ecco l'interfaccia. Ci chiede di iniziare a disegnare e a scrivere. Noi clicchiamo su questo tasto verde e ci troviamo sostanzialmente di fronte a uno schermo bianco, a quello che è il classico stage di un software autore. Qui possiamo cominciare a disegnare. Come vedete, nella parte sinistra c'è una specie di casella degli strumenti molto semplificata. Questo tasto è nero perché ora il colore selezionato è nero, ma naturalmente possiamo anche selezionarne altri. Nella seconda icona possiamo definire la grandezza del tratto, ed è ovviamente variabile secondo queste cinque ipotesi. E poi possiamo scegliere i classici strumenti, vale a dire la penna, che è quella che sto usando, ma anche la gomma, che naturalmente ha la funzione di cancellare, il testo, ecco qua, e a questo punto scrivo il link del sito che è awwapp.com, oppure anche l'inserimento di un'immagine che possiamo prendere dal nostro computer, oppure ancora il tasto per tornare indietro rispetto all'ultima operazione fatta e il cestino. Come vedete quindi le operazioni sono assolutamente limitate. L'aspetto però veramente interessante di questi programmi, ripeto, basati sulla rete, è che possono essere condivisi con tutti quelli che in quel momento hanno una connessione a internet e un browser. Infatti, se io clicco nell'icona in basso, dove c'è il classico logo dell'utenza e un piccolo più, compare un pannello di questo tipo. Dice invita alla lavagna, oppure scarica l'immagine, per immagine si intende tutto quello che ho disegnato finora, o condividi l'immagine. A noi interessa, invita alla lavagna. Se io clicco, a un certo punto, ecco cosa compare nell'interfaccia. Il sito mi dà non solo l'indirizzo a cui ora mi trovo, che è awap.com, ma anche una sequenza unica generata in questo istante, che nello specifico è slash b slash u m m z 8 z t n f, che io posso condividere con altri utenti e l'aspetto interessante è che chiunque si diriga a questo indirizzo troverà tutto quello che io ho fatto fino adesso alla lavagna. Ora facciamo questo esperimento, io copio questa sequenza, apro un altro browser, in questo caso ho aperto una sessione di Firefox, copio nella barra degli indirizzi in alto, ora non lo vedete ma tra poco comparirà, ecco qui. Ho copiato l'indirizzo che mi ha fornito ed ecco che mi ritrovo in questa LIM, questa LIM virtuale. Anche qui io posso decidere naturalmente di operare tutte le modifiche del caso e infatti, ecco qui, se io ritorno nella mia LIM originale trovo proprio questo scarabocchio azzurro che ho fatto attraverso l'altro. Quindi diventa uno strumento collaborativo. Come vedete poi si è anche aperta una interfaccia per la chat, questo per fare in modo che gli utenti possano per esempio chattare tra loro, naturalmente se si trovano in luoghi remoti. Facciamo una prova, scriviamo ciao, ecco qui, io mi sono loggato come prof e in effetti l'altro utente, ecco qui, ha visto comparire questa inizio di chat con scritto ciao. Questo è uno strumento molto interessante che non richiede registrazione. Quello che ho aperto ora è un'interfaccia invece nella quale vedrete comparire email e password. Questo perché ad AWAP ci si può anche registrare e in questa maniera tutte le schermate vengono salvate. Altrimenti, come avete visto, io non ho fatto alcun tipo di registrazione, alcun tipo di login. Sono semplicemente entrato nel sito e ho cominciato a lavorare. Il sito genera anche per gli utenti occasionali una stringa, una sequenza, che può essere condivisa. Naturalmente se vediamo che questo strumento ci è utile, è opportuno registrarsi perché almeno tutto il lavoro fatto può essere recuperato anche nelle settimane a venire. In caso di non registrazione, i materiali dopo un certo numero di tempo, di giorni, vengono eliminati. Come vedete qui c'è la classica interfaccia per le credenziali d'accesso, email e password, la possibilità di creare un nuovo account. Quindi, e ora torno di nuovo su Chrome. Quello che abbiamo visto in questo sito è molto semplice. Siamo di fronte a una specie di LIM virtuale, dico virtuale perché non è un programma installato in nessuna macchina. E soprattutto è uno strumento collaborativo. Il vero limite fisico della LIM, per il quale per certi aspetti ancora siamo legati a una didattica 1.0, cioè tradizionale, è quello che l'utente deve essere davanti allo strumento. Questo è il vero limite fisico della LIM. Con questi strumenti superiamo l'ostacolo che sta nella natura stessa della LIM. Ultima nota, questo sito è anche raggiungibile mediante smartphone, perché non è in flash, ma è scritto in HTML5, sicché i browser di tablet e cellulari possono tranquillamente interagire nei limiti, ovviamente, delle loro dimensioni. Vediamo ora un sito molto molto simile, che è questo qua. Funziona nella stessa identica maniera. Si chiama writenup.net W-R-I-T-T-E-N-U-P.net E fa le stesse identiche cose. L'interfaccia, come vedrete, è più spartana, le icone scelte sono meno eleganti, è presente la pubblicità in basso, però, tutto sommato, fa la stessa funzione del precedente. Io comincio a scrivere, in questo caso vedete il tratto è solo di tre possibilità. In alto, come vedete, a questa pagina è subito stata attribuita una sequenza, che nello specifico è yhxss. yhxss. Io la vado a copiare, vado sempre a simulare un altro browser, eccolo qua, e quando vado nel sito, che è appunto writenup.net, mi chiede se voglio iniziare con una nuova lavagna, oppure se voglio abbinarmi ad una in uso. Questo è il mio caso, scrivo la sequenza, vado su Go, ed ecco che mi ritrovo la mia lavagna. Anche in questo caso è bionivoca l'interazione, vale a dire che nel momento in cui io modifico il tutto, anche nell'altro caso, eccolo qui, si vede il risultato, posso sfogliare delle pagine con in alto questa specie di player sinistra-destra, con il quale, ecco qui, si può aprire una pagina nuova, si può esportare, come vedete, in pdf, o anche aprire una nuova lavagna. Ora, a cosa servono questi strumenti? Ne abbiamo visti due, writenup.net e awap. servono per utilizzare la LIM in maniera collaborativa e eventualmente in maniera remota. Quindi possono essere utilizzati per progetti, ad esempio, di peer-to-peer remoto, cioè educazione da pari a pari remota, per apprendimento cooperativo e per esempio anche flipped classroom, vale a dire classe capovolta.